Abbiamo oggi con grande orgoglio rinnovato un accordo che era evidentemente scaduto il 30 giugno di quest'anno e con grande serenità e fiducia da entrambe le parti abbiamo rinnovato il contratto per ulteriori tre anni con una novità. La novità è quella dell'acquisizione del naming title da parte di Computer Gross che affianca il nome di Castellani e pertanto lo stadio si chiama da oggi Castellani Computer Gross Arena. Questo è anche un viaggio per il nuovo stadio? Esatto, questo è il primo mattoncino, il primo passo di un percorso che ci sentiamo oggi di poter promuovere con più decisione sulla base del fatto che la riqualificazione dello stadio è imminente, nel senso che probabilmente siamo anche più avanti di quello che si pensa perché si stanno incastrando le parti giuste del puzzle che ci porteranno senz'altro a breve a parlare di project e appunto di riqualificazione. Che stadio sarà? Sarà uno stadio ovviamente polifunzionale soprattutto con le aree, uno stadio ben a disposizione di tutto il pubblico, quindi il pubblico potrà vivere l'evento a ridosso del campo, cosa che oggi avviene solo per una parte dei settori e avrà, conterrà delle aree ricettive che saranno funzionali ai partner investitori, tra i quali Computer Gross e saranno di interesse pubblico. L'amministrazione comunale in questo percorso è al nostro fianco? L'amministrazione comunale è al nostro fianco, abbiamo aperto un tavolo dove con cadenza settimanale ogni 10 giorni ci incontriamo, ci scambiamo opinioni, quindi il tavolo è assolutamente aperto perché, ripeto, la struttura deve essere di interesse pubblico e non soltanto per le gare della domenica dell'Empoli Football Club. I esempi di tutto questo? Stiamo studiando proprio in questi giorni il cronoprogramma, come dicevo in conferenza si intreccia un po' con il cronoprogramma delle opere del cosiddetto Montevoro 2.0, perché è chiaro da punto di vista organizzativo dobbiamo poi spostare nel momento in cui viene riqualificata la Curva Nord, dobbiamo portare via la prima squadra che si allena oggi al campo sussidiario, quindi insomma il cronoprogramma è allo studio insieme ai progettisti, insieme al Presidente Rebecca e quindi stiamo valutando la miglior soluzione ovviamente per non portare via la squadra. Puoi ipotizzare una data? Una data? Di inizio lavori o di termine lavori? Di inizio lavori, come dice il Presidente, il sogno è luglio 2024, però insomma in tutto il 2024 contiamo di farcela.